Musica Benvenuti e bentornati ragazzi in questo fantastico nuovo episodio Di reagiamo a cose su Rainbow Six Siege Oggi ragazzi torna CiccioGamer89 Ho avuto un'idea ragazzi Visto che questa serie comunque di reagiamo a CiccioGamer Dove io spiego dove sbaglio e tutto Vi piace sia perché vi intrattiene Sia perché vi aiuta comunque magari a migliorare A fare capire anche voi dove sbagliate e correggere quelle cose Ho intenzione di aumentare la produzione di questa fantastica miniserie Riguardante CiccioGamer e Rainbow Six Siege Comprando una lavagnetta magnetica Così che ogni volta che lui sbaglia le cose Io me le scrivo lì e vi faccio vedere tutti gli schemini Ovviamente ragazzi se vi piace l'idea potrei anche mettermi per ogni video Una camicia così da far finta di essere il coach o comunque l'analista Al momento ragazzi in questo e nel prossimo episodio Perché su due video useremo Casalinga fatto in casa Un'agendina qua I fogli di merda Con una penna così molto scrauso Se ovviamente vi piace questa idea Dal prossimo ci sarà sempre sta merda Dal prossimo ancora In caso compro la lavagnetta quella figa magnetica Mi metto la camicia e cominciamo a fare le cose professionistiche Però ovviamente dovete farmelo sapere voi Tramite mi piace, i commenti e le iscrizioni Inoltre ragazzi prima di cominciare vi ricordo che ho un secondo canale Dove faccio Fortnite Ed è uscita la mia prima mappa creativa di Fortnite Quindi se voi Prima di tutto Se seguite Fortnite Seguitemi anche sul secondo canale Link in descrizione comunque la esive 2 Se non seguite Fortnite non vi iscrivete Perché porto solo quello Inoltre ragazzi se volete la mappa nuova che ho creato Per quanto riguarda Fortnite Qua c'è il codice Se volete provarla con i vostri amici E aiutarmi comunque a farla crescere Giocatela in continuazione E let's go col video Allora signori Siamo qua con il mitico ciccio gamer 89 Let's go E' quel momento Il problema ragazzi sapete qual è? Che voi Nel frattempo che lui parla Voi Lui è rame 1 Voi mi chiedete Mi dite sempre nei commenti Eh ma perché non collabori con ciccio Oh mio dio Ragazzi Non mi caga ciccio sicuramente Quindi cioè E' inutile che mi scrivete Collabora con ciccio eh Perché ovviamente Abbiamo magari numeri troppo diversi E Non sono nessuno per lui Quindi Continuiamo con le nostre reazioni Io cerco ovviamente ragazzi di aiutarlo Oppure ogni tanto scrivi commenti su YouTube Sotto i suoi video Cercando di aiutarlo con la sensibilità Pure questi ragazzi Sono comunque video intrattenitivi Ok tutto Ma comunque lo aiuto Però non ci caga Dovete essere voi a farmi cagare da ciccio gamer Cioè non sotto questa magari frase letteralmente Però Let's go Allora ragazzi Siamo su Kovo Lui non ha mai fatto questa mappa Quindi Sarà Penso sia il 65% delle persone Che non l'abbiano mai fatta Quindi Classico Ci sta In questa mappa ragazzi Secondo me È una mappa offensiva È più facile attaccare che difendere Poi ognuno ha i suoi I suoi pensieri Le sue opinioni Però secondo me È più offensiva Perché in difesa Tendi spesso Cioè ci sono sempre troppi muri soft Da poter rompere per gli attaccanti E entrare subito in site Quindi è un po' Mmmmm Questa l'avete fatta Sì Lui usa finca Io non so dove entrare Come fare Che dire Beh io sto presso agli altri Cioè Allora ci sta la cosa che ha fatto Perché ragazzi Se siete in solo Q Bravissimo Pushate Con i random Li usate come scudo Li usate come bait Come esca Li fate pushare E poi capite dove l'avversario L'ho ammazzato Dovete essere ragazzi Intelligenti Con i random Dovete buttarli così Nella gabbia E poi andare voi Perché dovete andare per i primi Se ci sono i random Cretini che pushano Cioè Vado ad andare prima loro Poi se killano C'è per lui Tanta roba Ce n'è una a sinistra Ciccio Hai appena sentito Che gli ha scaraventato Una strambiata La potevo fare prima Io ripeto Spetterei un attimo I due finca Così da correre il team Che so più alla deriva Che altro Io ve lo dico Però che fai Finca 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 Ciccio Finca Sapete cosa starà pensando L'avversario Vi faccio uno schemino Questo è l'avversario Che è Knock Su Ciccio Ok Questo ragazzi È quello che pensa Secondo me L'avversario Di Ciccio Ve lo faccio vedere Tranquillamente Ora Non sono sicuro Ma secondo me Lo pensa Secondo me In questo istante Appena vede Ciccio E vede che ha ancora Due finca Secondo me Lo potrebbe pensare Ok Però andiamo avanti Ovviamente Questo è una piccola cosa Che Secondo me Penza l'avversario Di Ciccio Allora Un altro team È caduto Bravo Che usa il Finca GG per Ciccio Punto 1 A favore Purtroppo Si è dato comunque L'avversario Vuota Sono 3v4 Il problema È che Lui è solo E gli altri due Sono insieme Quindi è un problema O si farà Super giocata Mega OP Da solo O si attacca al cazzo Non è che tante volte Passa qualcuno qui No Non usa i droni Purtroppo Sare giù quasi Delle volte Non porta Quello che Ciccio Ah no Non c'ha droni Il tuo cazzo Li ha sprecati i droni Non mi ricordo Dove li ha buttati i droni Ma non è vero Però ha fatto un bello shot Non è vero Non è vero Ha fatto un bello shot Posso essere sinceri? Ha fatto un bel Un bello shot in testa Io ero convinto Di aver sparato in testa Ma convintissimo Ah hai sparato in testa Infatti Bro ce la potevi anche fare Eh raga Quello c'è il pompa Quello c'è il pompa Quindi so cazzi La vedo Estremamente Estremamente grigia Ho questo presentimento Capito? Ma siamo al primo round Stai calmo C'è nel senso Non è che al primo round Già butti sentenze Fanno schifo Il mio team fa schifo La vedo grigia Non è possibile Che schifano a me Un attimo Sapete che sono contento con poco Falli rotare No Non posso utilizzare gli scaf Che già ho Perché sono solamente Per playstation 4 Se me lo state chiedendo Poi al limite vi farò vedere Quando mi arriverà l'altro Scaf Io ragazzi Con sto discorso dello scaf Sapete che penso Del discorso dello scaf? Questo è il mio pensiero Sullo scaf Di sto cazzo Di scaf di merda Questo è il mio pensiero Ok? È un dirigibile Va bene? Un dirigibile Praticamente Questo è il dirigibile Che passa sopra covo Va bene? Questo è quello Che io penso Sugli scaf Non servono un cazzo Sì ok Se siete bravi Forti Quindi volete fare Volete migliorare Un pochino Sulla velocità Ok? Abbassarsi E con le cose dietro Va bene Ma Per giocare bene Non serve lo scaf Ok? Non serve un cazzo Poi se volete fare Quel passavanti Lo comprate Ma No 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 Quindi non è che Se fai cagare Vuol dire perché Non c'hai lo scaf No Ok No Quindi annulliamo sta cosa Mettiamoci una X O una Y Per cortesia Perché Questo scaf Ogni volta Credo che questa partita Ragazzi sia Boom Io non ce l'ho Lo scaf E gioco comunque bene Sono fortissimo Sono il numero 1 Al mondo Di console Vediamo un po' Allora 0-1 Ma Allora Primo round Cosa ha sbagliato Secondo me Dove affincare prima Noc Ma Vabbè Sarebbe scoppiata Comunque No vabbè Il primo round Raga Magari devo stare Con gli altri No vabbè Che stiamo in attacco Ci sta Ci sta E' un pochino più difficile No? Sì E' più difficile Giostrarsi con i random In attacco Dove andare? Vedi là Allora è Thermite Ci sta Va bene Siamo fortissimi Purtroppo Purtroppo Dovrebbe seguire Cioè Twitch Dovrebbe seguire lui Solo che Twitch È random Quindi capito Minchia Non so dove Ok c'è Iena che ha pushato E ha spottato il site Morendoci Ok Dovrebbe essere là A destra Fa niente Dai Dovrebbe essere là A destra Ora il problema Sapete qual è? Che lui si sta affidando Del random Che sta dronando Ma sapete qual è il problema? Sapete qual è il problema? Che è il random Non c'è il microfono E quindi pure Se ne vede uno davanti Non lo colla E dopo Ciccio Penserà Che lì Non c'è nessuno E lui pusherà E sapete cosa farà Ciccio? Prenderà Il dirigibile Questo qua Avete presente? Il dirigibile Prende questo Ok? Sulle scale Lo prende E se ne va Da covo Se ne va Su Oregon Ok? Se non erro Esatto bro Avvio un drone stordente Meno male che ha dronato lui Vanno qua Vanno qua Sapete che Nock Se n'è già andata Nock non fega un cazzo Cioè Addirittura Eh la flash è lanciata pure bene Potrebbe bricciare direttamente Cazzo Sì briccia Ciccio briccia Verrà Ok Mi sente Capta No non capta un cazzo Cap No non capta Ha captato Ha captato E perché c'è il 3G Va lento Ok Briccia però prima devi uscire Ti devi levare dal cazzo No Urco 2 oggi Ma raga oggi piotta con i flick Ok E ti ha il secondo shot che fa bene Ah fa la sciroga Facciamo così Eh molto bene Sì Un'ottima flash È stata una bella combo la mia Però almeno ci sto provando Vabbè allora Uno si è stato bravo Alla chi per la flash Dai dai Accettiamo dai Dico la verità Eh perché l'avevi lanciata di merda a destra Sarà rimbalzata Allora o perché le persone non conoscono questa Questa mappa qua Ma comunque fanno delle kill Veramente impressionanti Raga Le fanno con il rinculo Io non so Io vi devo far vedere comunque tutte le partite che faccio Anche perché un minimo di tattica la sto utilizzando Un minimo Non dico che sono brava Bro ce l'hai a destra Il problema ragazzi sapete qual è Il fatto è che lui Constante Lui dà troppa fiducia ai random E sapendo comunque di non essere fortissimo Lui spera magari di vincere le partite Grazie ai random Cosa che è sbagliata Perché i random di per sé La parola random Deriva Dall'asteco Per chi non lo sa E vuol dire Nabbo Ok Sì questo Cioè Furono gli astechi ai tempi A cominciare a dire la parola random Che ne so C'era uno che Aveva parcheggiato male Oh fra ma sei un random Veni guarda gli astechi E quindi la parola random Vuol dire Nabbo Scarso Bidone Ok Pure infatti si usava pure il bidone Ad esempio Oh butta questa buccia di banana nel random Quello nel random E nel bidone Cioè Si usava Perché si erano un po' milanesi pure E si usava quindi Ciccio non deve dare troppa fiducia Perché c'è Prendi questo Ora questo lasciamo stare Che era la frase poco fatiglia Ok Ma prendi questo Se pensi ai random Cioè se Mi tiri dai random Quindi sta cosa Ciccio No Non ce l'hai qua Tu devi giocare per i cazzi Bello questo però Però demon Fa cagare Alla Vabbè Nestra Ci ha provato Per me non l'aveva sentito E gli ha detto solamente un po' di culo Perché io l'avevo sentito Questo qua a destra No vabbè Sì L'ha sentito Ci ha sparato davanti Che cazzo Che ha sparato un topo Vediamo un po' Rattatuglia ha sparato Finchè faccio le mie giocate Anche se fatte sbagliate Ma con un minimo di senso Io sono contento E non mi sparerebbero Infatti al momento Non sta giocando male Ha fatto il primo round Una bella kill Poi è morto Il secondo round Ha briciato E ha fatto un'altra kill Poi si è flashato Vabbè Lasciamo Ragazzi ma finchè non prende Montaigne Vedete che comunque Non prendendo Montaigne È meglio Capite un attimo Ok Ha già fatto due kill Ha briciato Il random con Montaigne Che c'è fai? C'è Manca a far così Quando usi il drone bro Io sto aspettando Lo sto coprendo Tutto qua Ragazzi fa sempre lo stesso errore Lui si fida Del random Che drona Vedete che non si fida È quello che ho appena fatto O per quello che ho appena detto Lui ha lasciato dronare il random Ma siccome Non è stupido E sa che il random è Random Lui sa che non si può fidare Quindi pure se quello ha dronato Lui controlla a destra E quindi Perché dovresti mai far dronare il random? Drona tu e vai Perdi solo tempo così Sì quindi immagino che tu abbia già controllato No zì non ha controllato una minchia Eh vabbè Io spero ragazzi non gli arrivino da dietro Perché Non so minimamente Ok Perché poi si incazzerà con il random Ma il random non c'entrerà niente Poverino Popopo Piccola creatura Innocente È nato così Tante volte da facci E non bisogna Insultarlo Ok È un random Una cosa gloriosa Ma stanno ancora sotto? No Non stanno ancora sotto Sì Cioè stanno lì Il site è lì Speriamo che mi viene nessuno da dietro Se non conoscete la mappa Le call sono lì È qui È lì È di là È di qua È su giù Va c'è bravo raga È sul ping Se sono le call Che potrebbe veramente No fra 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 Ciccio devi stare tranquillo Manca un minuto e venti Siete cinque v tre Bello Bravo che brici Ci sta Ok Ragazzi Ma come Prima non avete fatto niente Sto giro Avete distrutto la lobby Perché si hanno pushato insieme Le mie tattiche Le mie cose Sta squadra è un po' strana Hanno pushato insieme Sono tutti morti E io piano piano Mi stavo a cominciare a far strada Hanno ciso un intero team In un secondo e mezzo No sono stati bravi A me va bene Sì 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 Boh Andiamo avanti ovviamente ragazzi Allora Thorne Ovviamente ragazzi Io skipperei tutta la preparazione Che tanto mette Thorne al cazzo da cane Quindi non è che Ci serve comunque Si torna comunque Li sa mettere Si mettono un po' a cazzo Dove le metti Dimentici Un po' così è così Allora il problema è che Allora ti è morto Kaid Scusate Allora è morto Kaid Quindi vuol dire che qualcuno Da lì su quelle scale c'è Il problema è che Lì già sta coprendo Mozi in teoria Perché quindi Cioè è messo lì Quindi in teoria Lui dovrebbe coprire Le altre parti Appunto Madonna ragazzi Che Mia Questo Non so da dove escono Il problema è Oltre al fatto che Non conosce la mappa Il problema è ragazzi È che con i random Non ti puoi aspettare Che coprano tutto il site Quindi se tu stai dentro al site Devi aspettare Che Questi entrino In ogni Cioè da Come cazzo si dice Da ogni momento Ok In ogni momento Non so da dove escono Ci sta Perché era tutto scoperto L'altro site Questi sono tutti suori Abbiamo perso Raga dai Questa è una partita Una partita persa E non so come hanno fatto A votare sta roba qua Una partita persa Non so come hanno fatto A votare sta mappa Raga E poi dico la verità Lo sapete Secondo me Loro 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 Sono molto più forti di noi Cioè io le kill Che ho visto fare Agli avversari A parere mio Personale Ditemelo se secondo voi È vero o no Nei commenti Oh raga Sono belle precise Sono belle tese Cioè Come vi posso dire Sono cercate Le kill Tanto loro non entrano Ci ammazzano prima a me Quindi tu è inutile Che te prendi Sta gente qua È proprio inutile Adesso il suo ragionamento Ragazzi a me non piace Perché è il tipico ragionamento Di Gli altri sono più bravi Il mio team fa schifo Classico Lo sento dire spesso Da lui Perché già reagisco A tanti video suoi Questo ragionamento Ti Ti butta giù E butta giù I tuoi compagni Cioè Dicendo sempre Quelli contro Sono più forti Non ti dà modo Di migliorare Perché Dicendo Ok Quelli contro Sono più forti Noi siamo più scarsi Quindi Ci sta a perdere No Facendo così Il tuo cervello Porta A Calmarsi E Mettersi sulla difensiva Non imparando niente Dicendo Eh vabbè Tanto è inutile Che imparo cose Oppure provo a migliorare Tanto Abbiamo perso Perché gli avversari Sono più forti E quindi è giusto Che sia così No Voi dovete essere In primis A cercare Di vincere Spronando Il team Spronando Voi stessi Dicendo Questi contro Sono dei bidoni Ma gli faccio Vedere io Come si gioca E quindi così Voi Attivate Indirettamente Il cervello Cercando Di migliorare A prendere Magari Prendete Il pisello Mooround Voi Al posto Di fare i piangini Eh no Ma io non capisco Perché mi ha ucciso No Voi dovete essere lì A capire Perché siete morti E come C'è E in che modo Potevate Magari non morire In quella circostanza Quindi che ne so Poco fa Ciccio è morto Perché Che ne so Ha lanciato La flash E quella a sinistra L'ha sparato Gli ha sparato Dopo che ha briciato Come poteva migliorare La situazione Uno Non flashandosi Due Non stando davanti Al bridge Aperto Quindi con Tutto il site Difensivo Aperto Con quelli Che ti possono Piccare E già questa È una risoluzione Al fatto che Poteva non morire Facendo quello Che ho appena detto Invece no Eh no Io ho capito Perché Quindi questo È da migliorare Ma non solo Su ciccio Io parlo in generale Se volete Migliorare Nei videogiochi Dovete avere Questo ragionamento Ricordatevi Sempre Ragazzi Che Più Prendete Il pisello Più In futuro Lo darete Perché Se voi Vi limitate E non giocate Al meglio Aggressivi State sempre Difensivi Non cercate Mai il fight Voi Non migliorerete Mai nel fight E questo E questo porterà Sempre a farvi Giocare di merda Perché appena Beccherete un fight Voi non siete Abituati a fightare Quindi a sparare E quello contro Vi ammazzerà Continuamente Perché magari Quello contro Pushando Pushando Partita dopo partita Prendendo il pisellino Prendendo il pisellino Dopo partita Questo Piano piano Migliora Capisce dove Sbaglia Prende più confidence Perché comunque Ragazzi È come Vi faccio l'esempio Voi andate a giocare A bullying A bullying Non ci avete mai giocato E quindi siete un attimo Impauriti Non so come lanciare la palla Mio dio Spero di prendere Almeno un birillo Se voi giocate Una volta all'anno A bullying Farete sempre schifo Se invece Voi Cominciate a giocare Un giorno Una volta a settimana Magari a bullying Già dopo Due settimane Tre settimane Quattro settimane Comincerete a migliorare E dopo un anno Comincerete già A fare Belle Bei tiri E tutto È normale Perché voi Acquiserete Più knowledge Conoscenza E più confidence Ok Quindi questo è quello Che voi dovete trasportare Nei videogiochi Secondo me Poi ovviamente Se volete migliorare Se volete cominciare A continuare a fare schifo Fate così Perché Quello Cioè Perché io Nei videogiochi Ragazzi Apprendo Velocemente Io sta cosa Nei videogiochi Apprendo velocemente Uno perché Quando mi applico Nei videogiochi Mi vedo 150 Tutorial Video Gioco e tutto Ma perché Quando prendo il pisello Cerco di capire Perché ho preso il pisello E quindi Mi adatto Cercando la prossima volta Di non prenderlo In quella circostanza Quindi se uno Mi sponchilla Io La prossima Partita Se mi ricapita Quella mappa Sarò attento A quella finestra Dove quello Mi ha sponchillato E magari Prefilerò Io Ok Qui secondo me Lo push a cazzo Ah questi Non trovano 100 100 Se l'è fatto quello Quindi va bene Allora Black È bravo Black Demon C'è la mira buona L'abbiamo visto pure poco fa Con Twitch Sentite io Sono una persona corretta È giusto E rispetto l'ambiente Quindi rimettiamo È rispetto L'ambiente Le assi Sono fatte Di legno E E Andiamo avanti Greta Thunberg Sarà d'accordo Vedendo questa clip No vabbè Ma non ha senso Ma sta partita Non c'ha senso Regà Cioè come Come è possibile Perché si lamenta Quando i compagni Killano Scusa Non capisco Non è Non è Non è Non è fattibile Perché Ragazzi si lamenta pure Quando i compagni Killano O si perde sempre Cioè No ragazzi Di giro non lo sto capendo Di giro non lo sto capendo Ok Cambio caricatore Non sto capendo il suo ragionamento Cioè Si lamenta Quando perdono il round Ma si lamenta comunque Quando i compagni Killano Comunque Comincia a dire Ah non è possibile Ok Non si capisce Non è possibile Oh ma che partita strana Se posso dire la mia Ma non è strana Ma è normale Ci sta E non ci sto capendo E non ci sto capendo niente E io non ci sto capendo niente Perché il prossimo turno Ci spappolano Ma ci sta E va bene così Tra l'altro Io ho messo anche la playstation Tramite cavo E minchia Perché ragazzi Il fatto è che Poco fa Perché hanno preso il pisello Perché nessuno copriva il site E sono entrati dal site Non è che hanno preso il pisello Per i gunfight Perché erano tutti fuori Lui era l'unico dentro Ovviamente copriva una parte Non copriva l'altra Quello gli è arrivato E ha distrutto lui Con tutto il team Ma quello è un errore Del team in generale Perché nessuno copriva un cavolo Ora che hanno coperto meglio O comunque hanno magari scelto Un altro site Eh È andata diversamente Che lobby Che ping Ah usavo il wifi Sicuramente di là Ok Non fa niente Quindi ora ho usato il cavo E vabbè ci sta Spara in aria Ehm Diciamo che va bene Dovrebbe mettere La telecamera ragazzi Mettetela sempre Se voi mettete Il gadget In basso a destra La telecamera Quella È infrarossida Quella Bianca è verde Quando l'aprite Mettetela sempre ragazzi Che è fondamentale Occuparmi di questo Tutti i vostri Tutti i gadget Del personaggio Usateli sempre Così Ma mi viene comunque Sono pazzi Ehm I miei sono chiaramente pazzi Non sto capendo Il perché Ma si Sono proprio stupidi Ragazzi Poi il drone Lo potresti rompere C'è un drone a destra A sinistra Andiamo avanti Tanto ripeto Io non 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 capisco Cioè non capisco Questa mappa Quindi Ok ho qui Che poi ragazzi Che poi ragazzi È la cosa Ehm Pure questa cosa Della mappa Spesso La vedo pure Con il mio team O comunque Con gente Quando esce In un gioco Una mappa nuova Al posto A imparare Ti posti Perché fa Perché fa cagare Perché è troppo Ampia Ehm A 350 La mappa È chiusa Non fa schifo Non avrei mai potuto saperla Cioè mai È molto Mai Chiusa come spazi Quindi non è bruttissima Io metterei una gulli Un'altra Perché mi sa che l'hanno Ecco l'hanno preso una gu Ok Quindi uno è entrato Allora se se la sente Puscia Picca Se no non picca Sotto le cose Se raga In partita Se mi sentite confident Di piccare Piccate Se cominciate a dire Oh no Non so come piccare Non piccate Perché tanto prenderete il pisello Perché piccherete male Spaventati Sto rendendo la catastrofe Comunque Ok Vai 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 C'è la gu Ha missato Ragazzi Hai missato Ammettilo Ammettilo Ho fatto un mezzo liscio Ok Lui non è fregato niente Ok l'ha missato Pace all'anima mia Ragazzi Pace all'anima mia E ci sta Ci sta Ma infatti ragazzi Quando si muore Perché uno missa Piccato Ci sta Oh Uno sta piccando Uno sta pushando Ragazzi uno che entra da qua Quando ragazzi Uno perde Perché missa Ci sta Ma non si pinta Non è grave Santo Dio Ma lo so io che faccio schifo Lo so io che faccio cagare Non lo sapete voi E dai Non l'ho pingato io Ok Ma questo non crepava Ma perché a me no Le kill così belle Belle semplici E l'allero Va bene Va bene Va bene Va bene Allora sono 3-3 S'arrivo a 5 Hanno recuperato in difesa Deve sperare di finire in difesa Finisce in difesa Ok La posizione delle bombe è sicura Più utile possibile Davvero Lui con quest'arma potrebbe mettersi pure in questo punto Perché ha questo mirino 2x Quindi da lontano è tanta roba Poi dipende pure dalla mira Però Vedere un attimo se Ovviamente ragazzi Io Se Io faccio pure coaching Ok ragazzi Quindi se vi serve coaching E volete fare coaching in privato Scrivetemi In descrizione c'è l'email Rezibcoaching Chiocciolagmail.com Mi scrivete là E ci organizziamo Ovviamente a pagamento Ok E' 10 euro Un'ora Se invece volete un progetto Sempre creato da me Con dentro i tutorial Le migliori impostazioni Accessori Di Cnod R6 Tutte le cose Dalle mappe C'è il mio progetto R6 In descrizione c'è tutto Tutto spiegato bene Ok Per avere quel progetto Basta fare l'abbonamento O su youtube O su twitch E scrivimi in privato Se se lo fate su twitch Su twitch Su youtube Me lo scrivete su instagram La vostra gmail E vi aggiungo Ok Riesco Forse sto un po' troppo fuori Off topic Forse si Forse no Ok Allora uno è fuori Allora il problema ragazzi E' che Qui Ok Niente Entra da qua E' sul tetto E' sul tetto No no Ha lanciato il drone da sopra Quindi vuol dire che è sul tetto Mannaggia la puttanella Ci sta Hanno giocato bene Hanno giocato bene Infatti ho provato Andarmene via Niente Regà Niente Regà Niente Nulla da dire Vabbè ma io perché Non la conosco la mappa Bravi gli avversari No vabbè Allora Conoscendo Non conoscendo la mappa Comunque Avrebbe preso il pisello Perché hanno giocato bene Conosco la mappa Vabbè ma faccola a tutti Vabbè il mio unico lascio Eeeh Io ho lasciato dei dispositivi Anti-sgaming Eeeh Delle piastre Questo è stato quello Che sono riuscito a lasciare Al mio team Butta via Allora qua Sono 3v5 Potrebbero perdere Lo sto rando Sì Praticamente dove stavo io L'hanno usato come Embargo totale Cioè Purtroppo sì Intanto sento Urlare La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Il problema ragazzi È che No vabbè Giusto Giusto così Che tanto Quello non sa Che è lì Cioè io sarei morto Appunto Io sarei morto 45 volte Non so se Ma perché ragazzi Non c'ha i punti Perché Ah ma ha levato i punti Raga Cioè io sarei morto Io sarei morto 45 Scusate ma Quando killa Perché non spunta Il più 10 Più 100 Più 50 Che cazzo è Perché non spunta quello L'ha levato Due volte Non so se Camminando così Se non sbaglio Magari sono cose che Sopra scontate Non ci stanno Il turno Degli avversari Raga hanno recuperato In difesa Oddio Hanno recuperato Oddio potrebbero farcela Raga hanno trollato Sì 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 No 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 Ma guarda Hanno trollato raga Cioè sono entrati dal bridge Ha plantato Quello poi è morto E quello ha difeso dal bridge Io posso impazzire Questa è la partita del no sense Questa è la partita del no sense Raga Cioè quello che dovrebbe succedere Non accade Hanno sbagliato gli attaccanti E hai fatto bene i difensori Fate finta che La zona è così Io mi metto qui Ma attaccano un 400 qua Io Io mi immagino Le risate che vi state facendo voi A guardare sto video Porco zio montagne Va a fangulo a tutti Cioè io mi immagino voi Che Ah vi prego Dovete lasciarmi dei commenti E farmi Ma perché Ma stavi giocando Ma stavi giocando Cioè stavi aiutando il team Che cazzo prendi montagne Ma che serve montagne Oh vi giuro ragazzi Ora Io mi ci gioco Mi ci gioco questa penna Ok io ve la regalo Ok questa costa 4 milioni Ok io mi ci gioco Questa penna Me la gioco Lui non farà un cazzo con montagne Prenderai Questo Prende questo Dov'è Non metti a fuoco Metti a fuoco Questo Prende questo Ok Ma vedi Dai Dai gioca con montagne Dai Non sotto Un c4 Probabilmente Fammi vedere come giochi montagne Dai Dai su Allora So curioso Guarda su sto qui Sto qui fisso Impariamo come giocare montagne Con i random Una partita Va bene Tanto mi riprovo i tasti Ogni tanto Ragazzi alla nostra sinistra C'è una videocamera Allora Vediamo Montagne Con i random Ok Allora prima qua Mi hanno attaccato In 685 Vaffanculo Ok Entra da con montagne Il team lo sta seguendo Devi fidarti di montagna Vado molto fiducioso Ragazzi Incominciano a morire Prima morto Tra l'altro dietro lo ha coltellato Lui non può scavalcare Ovviamente Perché Ok Vai Uh Ce n'è due Tutti qua Tutti qua Ce n'è due Merda Wow Ne ha spottato due Ci ho provato Volevo fare un po' di caos L'ho fatto Però purtroppo i miei Ne hanno cominciato a morire Da altre parti della mappa Non dare lo colpo Non si prende Montagne Con i random Ok E' un terno all'otto E' quell'otto Lo perdete Quindi si Ho provato a dare una mano Ma non è stato sufficiente A me Tu la mano lo davi Con Thermite C'è un certo momento Ho detto minchia Dovrebbero farlo Un pochino più veloce Montagne Raga E' troppo lento C'è troppo Ma 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 perché Montagne Si usa con i Con i team Con qualcuno Con qualcuno Che ti segue Che fate le call Che giocate insieme E gli dici Oh ce n'è uno qui Spara in prefire E quello spara in prefire Ma con i random C'è C'è la domanda che mi faccio Ma che sta a fare Capita Senza call Io capisco di più Magari usare Montagne Su PC Perché su PC Voi mi starete dicendo Perché su PC Si fanno le call C'è il microfono Tutti hanno un microfono Vedete Tutti hanno questo E poi Ok ma tutti C'hanno un microfono Ok Su console A me non c'è Vi potete mettere qui E dire Ma non lo fa Non lo fa nessuno Nessuno parla Col controller Inoltre Ragazzi vi vorrei Far notare Vi vorrei flexare Questo bellissimo Groot Mi piace Ora qua io ho messo È il mio portaswiffer Ok Mi piace Ma è bello ragazzi Off flex Ok vai ciccio Scusa Vabbè dai Lo sto facendo Per fare un po' di È un flex Va bene Di non so che cosa Cioè Farlo dopo Quello che ho appena visto E arriva Capitao Ragazzi E arriva Capitao Capitao Ha visto Lì Usare una quantità Di proiettili Che neanche Rambo E calla Eccolo qua Attaccante neutralizzato Tra l'altro Quale kill Incredibile Ho appena visto Vabbè Complimenti Dai Ma che ti devo dire G Ma che ti devo dire G No Castle no Un po' di questo Oh no ragazzi Mi fa male il culo No zio no Ma voglio chiudere sto giro No te devi chiudere Sì è peggio È peggio È peggio Chiusura È nein Nein Perché loro Da sopra ti rompono il culo Mi voglio chiudere Non chiudere No no Perché ragazzi Il problema Ragazzi il problema È che voi C'è Castle Che chiude Ma ad esempio Io che sto dentro E voglio uscire Non posso Non posso farlo Perché ti devo rompere Il castle È petuto in cazza Mamazzi Se io sto fuori Voglio reentrarci Il castle Quindi oh mio dio Se tutti stanno sopra Che ne so sopra Ci va un fuse E comincia a fiozzarti Il culo Tu Prima che levi Sto tappetino Quello te ne ha messo Cinque in faccia Ok Quindi no 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 Da sta parte Castle Non si usa così Si usa fuori Magari con castle Blocca le finestre Dove poco fanno Magari hanno pushato Blocca quelle finestre Non blocca quelle dentro Sai Fatto pura arima Che ragazzata Non ci butti Tre quattro Sei Sette La castle Sembra facile Ma è difficile Usare Ok Perché I tappetini Non si usano Per baricare Tutto il site Dentro Ok Certo Se siete nabbi Si Ragazzi Sta zona È stata Se volete migliorare E fare quel Passo avanti Non usate Come cazzo Costanzo Ok Costanzo Così Va bene Blinda Sta E non Va bene Ok Mortacci Sui Speriamo Speriamo Ragazzi Sapete che c'è Vabbè Io devi tutto A sto Blocca Cazzo De frega Vabbè C'è 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 Hanno già Bricciato Tu sei chiuso Dentro Quindi neanche Puoi uscire Dal site Che bel buco Che hanno fatto Eh sì Fregnate Mamma Guarda che Uno andava Più che bene Io te lo voglio Dire Attivo Il sensore Oh Prima morto Non c'è bisogno Puoi piccare pure abbassato Dallo scudo C'è lo scudo C'è i buchi nello scudo All'allero Regà Siamo morti tutti No Non siete morti Sì Questo è vinto Ciccio Sei aperto dietro Siamo tutti morti Eh Allora Se si mette così È problematico Perché se entrano Lui si deve alzare Non picca in tempo Ma vaffanculo Ce n'è una a sinistra Bravo Ci sta Nice try Oh oh Ma non c'è bisogno Basta farle pushare Eh ma troppi Buchi dove possono uscire Dopo i spazi Eh Vedi Sto dentro All site Però Io sparo Santo Peripillo E anche è vero Che io sparo Povero me Ti hanno distrutti Dico la verità Loro sparano in testa Oh guarda Daemon però Raga Oh daemon è forte I miei sono implosi Tutti ragazzi Eh Il problema è che Sono tre Sono tutti fuori Magari uno copre A destra L'altro a sinistra Saranno dietro Eh vedi Uno in là No bro GGs GGs Parla Partita comunque strana Eh Cioè partita strana Partita veramente strana Veramente Veramente tanto Sconfitta in giusta Io ragazzi Sta cosa che dice lui strana Io non lo capisco Sinceramente Partita normale Non è stata Però Partita normale Un minimo ci abbiamo capito Questa mappa Io proprio Mai fatta Sono abbastanza sicuro Ragazzi questo era Quello che penso Che penso Comunque Riguardo questo video Di ciccio Fatemi sapere la vostra Nei commenti Mi raccomando Discutiamone Eh GGs GGs Grazie a tutti